prendersi le caviglie dai questo dai vai Lurini forza andate giù Lurini così non c'è bagnette vai giù allarga le gambe ce la fai ho 50 anni lo faccio io guarda oh guarda oh ho 50 anni guarda oh guarda oh guarda oh allarga le gambe allarga le gambe per tornare su sciogliere sul posto dai questo bene questo andate a toccare le caviglie sempre dai forza dai forza forza allora Lurini arriva a fatica le ginocchia non c'è tenere tenere io oggi mi sto mangiando vai tornare su tornare su dai dai toglie sul posto vanno tornare su sciogli sul posto ragazzi potete perché chiacchierate tutte le cose